L'Ucraina gate avvicina Donald Trump all'impeachment. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe usato gli aiuti militari e la prospettiva di una visita alla Casa Bianca per spingere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a scavare nel passato del suo rivale politico l'ex vicepresidente Joe Biden. Sono i risultati di un rapporto di 300 pagine dell'House Intelligence Committee in cui si legge testualmente Trump ha sollecitato interferenze straniere per aumentare le sue possibilità di rielezione, ha minato la sicurezza nazionale e ha ordinato una campagna senza precedenti per ostacolare il congresso. Trump è peggio di Nixon, si legge addirittura. Dopo la pubblicazione del rapporto il presidente democratico dell'House Intelligence Committee Adam Schiff dichiara C'è ancora molto da fare. Ci stiamo domandando, questo schema è iniziato molto prima di quanto abbiamo capito? Lo schema infatti è stato messo in atto per cercare di far pressioni già sul precedente presidente dell'Ucraina, Poroshenko. Trump ha immediatamente reagito definendo Schiff uno squilibrato e il rapporto una bufala antipatriottica. I repubblicani si stringono compatti attorno al presidente. Litz Ciney, figlia dell'ex vicepresidente Dick Ciney. Nonostante il fatto che la speaker della Camera abbia detto che le prove per andare avanti nell'impeachment debbono essere chiare, convincenti e bipartisan, è evidente il fallimento dei democratici su tutta la linea. La Commissione Intelligence della Camera nel frattempo ha approvato il rapporto sull'impeachment, che sarà dunque la base per la Commissione Giustizia per redigere gli articoli dell'eventuale messa in stato d'accusa di Trump.